No, perché tu la stai mettendo sul mio errore, il mio errore di rete per il quale ho chiesto scusa. E non puoi entrare volutamente in quella che è realmente la problematica. E no, tu non ci vuoi entrare. E ti ho detto, non ci vuoi entrare. Se vai sul nostro con la telecamera, mentre arriva una donna con la borsa, la fanno una pezza, una bornezza. E ti sa bene a te? Ti sa bene che fanno una cosa con la bornezza? A me no. E a qui non la credisci. No, non la telecamera. No, no, no. E' uno schifo. E' uno schifo che si mandano le donne in questo porcine. Perché il calcio è direttante di campare, è un porcine. Vai a vedere. E ho sbagliato a dirlo, mi stai dato la possibilità di dichiararlo. Cioè, voglio dire la raccoglie cosa. Come una telecamera che è in generale. Ho sbagliato, sì, ma ho chiesto scusa. Sì, ho chiesto scusa. E tu la metti, sto stendendo la ricorda. Ma voi dopo che la metti un po'. Hai chiesto scusa? Eh. Però non è che credo l'interno. Perché poi la sera c'è preso che hai invadito la donna. Anche dovrei cambiare il pensiero. Di che cosa hai? Con il calcio qua. Ma scusi, io di che cosa ho detto? Non sono io il sessista e il dissimilatore. Sono quelli del settore arbitraria. Non puoi capire? La sera è scritto. Sì. Ritengo personalmente che fare arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato. Ritengo personalmente che fare arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti altri. Quindi confermo il mio pensiero. Perché tutti questi squali di moralisti non fanno una battaglia per fare le carenze nei maschi. È vero? È questo. Quindi io non ce l'ho con le donne, assolutamente. Anzi, sono più intelligenti, sono migliori, sanno arbitrare, sanno fare tutto nella vita. C'è loro con chi le sa discriminando. Per me non fare arbitrare. Io ho detto che ho invitato una donna e la festa della donna, perché non si vivono i rettici dell'arbitraria, per me questo è sbagliato. la matta che inizia la partita è sbagliato. E certo, è questo, perché il mio pensiero è quello. Non è... Allora, nicchia, la cosa grave è che l'ho fatto prima della partita. Allora se l'avessi manca dopo mi erano giustificato. L'ho detto prima proprio perché è il mio pensiero. Vagliando... Guardate che schifo, che vergolore. Eh, c'è una donna in un cavo di calcio di marco. Eh, perché io sono il retaggio. Io conosco il retaggio. Ah, è il retaggio. Eh sì, perché vedi tu nei cavi di calcio di marco. Certo, vedi a vedere che schifo c'è. È il retaggio. Vai a vedere che schifo. Vai a vedere quando le donne, le donne nell'ambito rimanfattano tutti di me. Vai a vedere, vai. Vai a vedere cosa succede alle donne. Questi che fanno i moralisti. Vai a vedere le donne di calcio di marco. Vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere.